A Sala Consilina è stato aperto il cantiere per l'installazione di un'antenna 5G in un terreno privato in località San Sebastiano, alle spalle dell'OVS. I residenti si sono accorti dei lavori solo lo scorso weekend e si sono uniti in comitato per contrastare l'intervento autorizzato alla Inwind. I lavori godono di tutti i permessi, sono stati rilasciati anche dai tecnici del comune. Non è stata riscontrata alcuna anomalia per impedirne l'installazione, chiarisce il sindaco Francesco Cavallone. Tecnicamente la società è in regola. Il comitato cittadino di località San Sebastiano promette battaglia. Intendiamo andare avanti comunque con questa protesta, naturalmente in modo pacifico e se necessario continueremo anche per vie legali. Stiamo preparando una manifestazione. A Sala Consilina è la seconda antenna 5G contestata, l'altra è quella autorizzata in via Fieghi. In quest'ultimo caso i lavori non sono ancora iniziati, anche perché contrastati fortemente dai residenti e da un ricorso al Tribunale di Lago Negro, a firma di una paziente oncologica e cardiopatica.